Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con la statale 1 Aurelia chiusa da stamattina all'altezza del km 294,500 in entrambe le direzioni per via di un cavalcavia pericolante, uscita obbligatoria a Castiglioncello e Rosignano. Ci spostiamo sulla A1 dove per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Vivio per la variante di Valico in direzione Bologna e sempre in direzione Bologna l'area di servizio di Montepulciano Est esprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla A12 per traffico intenso code a tratti tra gli svincoli di Deiva e Barriera di Livorno in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!